Ma non è rato Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi? Per quest'anno non andrà proprio così. A tutti gli operatori sanitari, le forze dell'ordine e gli amministratori che si prendono cura di noi, a tutte le persone che continuano a lavorare per assicurarci i servizi necessari, e a tutti gli insegnanti che ci sono adeguati a queste nuove regole di questa nuova didattica. E a tutti voi che restate a casa perché avete pura la salute di tutti. Buona Pasqua! Buona Pasqua! Buona Pasqua!